Allora, in questo film, oltre ovviamente agli scambi di persona, alla commedia degli equivoci, si parla anche di grande competizione sul lavoro. Quindi voglio sapere, se me lo potete dire, qual è la cosa più scorretta o più pazza che avete fatto per vincere sul lavoro e battere la concorrenza? Che silenzio brutto! Scorretta? No. E ora sembra che siamo tutti buoni. Però veramente. Obiettivamente di scorrettezione. Ma non ci sta manco soddisfazione per ottenere un lavoro in questo modo. Cioè, sono tutti bravi? Sto pensando. Cioè, il lavoro ho ottenuto, ho guadagnato. Ma l'ho investito una volta? Sto scherzando. Ha ucciso la concorrenza. No, io mi portavo le parrucche, cioè ero bionda, sapevo che c'era un ruolo d'amora e mi portavo la parrucca scura. Cioè, facevo queste cose, questi piccoli scamotaggi. Oppure una volta sono andata vestita, diciamo, da Ines, che così non ho detto nulla, è il personaggio del film, è Ines. Da casa, preso la metro, è per un personaggio poi sono stata presa, quindi è la seconda volta che interpreto un ruolo del genere. Nel senso, incontrando gli sguardi delle persone vestite in un modo, diciamo, anche abbastanza... Queste cose mi vengono in mente. No, ma secondo me lei fa riferimento ad altre cose, tipo quando tu hai fatto... quando avevi quella bamboletta... Ah, voodoo! Con quegli spilli, aspetta! Sul set con quegli spilloni. Forza seccata. No, scorrettezza ne abbiamo subito, è quello sì. Però comunque la soddisfazione di ottenere un ruolo per i tuoi meriti, con la tua onestà, con il tuo impegno, con il tuo lavoro... È nata cosa. È nata cosa. Ho contagiato tutti, parliamo tutti in Napoletone. Nel film ci sono diversi personaggi femminili, però siccome si cerca di smontare un po' i luoghi comuni, gli stereotipi, molte sono, diciamo, non proprio simpaticissime, a differenza degli uomini, che sono, sì, la solita canaglia, lo sciupa femmine... Siamo direi che hanno antipatica. I nomi! Si è antipatica! Sto cercando la domanda. Allora, gli uomini, diciamo, sono più scorretti in questa commedia, le donne, diciamo, in genere sono un po' il centro morale, perché hanno ragione, poi risultano meno simpatiche, perché nella commedia spesso è così, per le donne è più difficile essere simpatiche, anche se noi abbiamo avuto grandissimi esempi, come Monica Vitti, insomma, perché spesso è più difficile per i luoghi femminili? Dipende dalla scrittura, amor mio. Dipende molto dalla scrittura, a mio avviso, poi, vabbè, hai citato dei miti colossali, laddove poi il cinema scriveva per le donne, in un certo modo, la simpatia nasce anche dalla fragilità, ma raccontare, io dico sempre l'arco del personaggio, laddove comunque, cioè, ti affezioni, hai tempo e modo per affezionarti e calarti nei panni, cioè, identificarti, allora dipende come li raccontiamo, questi personaggi, a volte... Anche modo di capire perché magari può risultare... Cioè, la più simpatica è Ines, che infatti ha una sorpresa. Eh, vabbè, i segreti, diciamo... Ma a me ci rimango male, ma a me mi sono tanto simpatiche, secondo me stanno segando perché Raph ha cominciato con Luca. Sono simpatica perché ho la storia con Luca. Eh, quello... Allora ci sta. Sono più contigliose, capito, ma anche se magari hanno ragione e poi risultano più... Questa è la visione di chi scrive le donne, chi descrive la donna forse, dovrebbero aggiornarsi. Ecco, lanciamo questa aggiornatevi, le donne sono cambiate, le donne sono molto di più. No, però... Scusa, è anche un posto oggettivo, nel senso che ci sono dei personaggi che possono sembrare antipatici, o volutamente antipatici, antipatici, e in realtà, per esempio, io le trovo simpaticissime, le cattive, le trovo simpaticissime, nel senso sono i personaggi alla fine che hanno un po' più di sapore, un po' più di pepe. Sto pensando nel nostro caso anche la Welter, che è un personaggio... No, è stupenda. ...un scrittura molto antipatico, molto odioso, però è uno dei personaggi che a me fa più ridere, cioè fa più sorridere. E quindi dipende. Dipende. Ma secondo me sono tutti simpatici, sono tutte simpatiche le donne del nostro film, e sono i nostri protagonisti. Ognuna ha il suo carattere, il suo difetto, però... E' vero che ci penso anche alla bambina. La bambina è un po'. Non è proprio un campione simpatica. La nostra Giulietta è bravissima. La bambina è simpatica quando batti becca con Luca, cioè mi sembra una gaiarda. Anzi, dovrebbe, come dire, acchiappare il pubblico femminile, dovrebbe essere un po' con lei. Cioè, trova il coraggio di dire a un figo come lui, sei uno stronzo, sei uno sciupa femmine, sei il crescente vivente. Vattene. Non ho bisogno di te, vai pure via. Poi non è vero. Infatti, spoiler. La prima e la seconda scena, perché poi... Poi le cose cambiano. Poi le cose cambiano. Ma dovete andare al cinema per vederle. Invece, volevo sapere, a un certo punto un personaggio dice, ma sì, bisogna seguire i propri istinti, le proprie inclinazioni, e c'è un ragazzo che fa, vabbè, lo possiamo dire, fa un graffito. Volevo sapere qual è una bravata che magari avete fatto così da ragazzi, seguendo le vostre passioni, magari non un graffito, ma una cosa del genere. Io ce l'ho. Io ero noiosissima. Cioè, che però non ho manco mai risaltato un giorno di scuola di nascosto. Ero veramente tanto noiosa. No, sempre stata buona, così, equilibrata. Forse una bravata è stata a raggiungere il mio fidanzato a New York. Ero piccola e mia mamma, tipo, gli ha preso un colpo. Dieci ore d'aereo da sola, sei pazza. Però per amore. Per me piccola, 22. Ero piccola. Sto detto che sono una abbastanza quadrata, equilibrata, quindi non ho mai fatto tante bravate. Io pure, perché i miei istinti sto imparando adesso, un po' ad ascoltarli, devo dire. L'altra notte ho sognato una scatola piena di animali coloratissimi, che a un certo punto uscivano fuori. Eccoli, sono gli istinti. Nel senso che ognuno di noi dovrebbe ascoltarli. Però no, non mi viene in mente nulla di particolare, e poi sicuramente ci sarà, perché è bravata, sì. Una volta ho tirato uno zoccolo in testa a mia nonna, ma non l'ho fatta apposta, però l'ho lanciata così dal balcone. Max, a te lo ti metto? Sì, ero ragazzino, ero innamorato, era il compleanno della prossima che ero innamorata, ho scritto auguri sul muro della parete davanti a casa, però con la schiuma da barba, quindi in realtà va bene. Vabbè, vai, vai, vai. È durata poche ore. Però comunque trovate il coraggio di questa cosa di nascosto. Carino, carino, caraggioso. Ho ancora 30 secondi, quindi rapidissimi. Qual è un collega di questo film di cui vorreste prendere il posto, che secondo voi è interessante? Parla con voi, eh? È interessante, guarda... Io vorrei essere Fioretta Amari. No, il cane di Fioretta Amari. Vorrei vivere nella borsetta di Fioretta. L'interessante è Stefano Fresi. Sì, il suo genio, anche musicale. No, abbiamo molte cose in comune, però è in comune interessante, molto interessante. No, perché vedi che mi ha condizionato un po' il cane di Fioretta. Non stare nella borsa in mezzo ai portafogli e rossetti, così, e vedere come si sta un giorno. Va bene, grazie mille. Grazie. Grazie.